Siamo a un mese esatto dall'introduzione di nuovi cassonetti intelligenti nel centro storico, in una parte del centro storico, che bilancio si sente di fare? Al momento devo dire che è un bilancio estremamente positivo, c'è stata grande educazione da parte della comunità, non abbiamo rilevato particolari criticità, magari può succedere che uno un pochino più maleducato degli altri lascia un sacchetto in giro, però devo dire che gli abitanti coinvolti in questa sperimentazione hanno risposto favorevolmente e in maniera molto civile anche, anzi ci stanno chiedendo quelli che al momento sono fuori dalla zona di sperimentazione quando arriveremo anche da loro, ovviamente assieme a Marche Multiservizi stiamo provando a darci dei tempi per proseguire questo, che non sarà più una sperimentazione, ma questo è un metodo di raccolta dei rifiuti in centro, le zone coinvolte saranno altre tre perché il centro storico è stato diviso in quattro fasce, complessivamente dovremo installare altri 18 contenitori e la criticità che si è manifestata ovviamente è quella dei posti auto che peraltro stiamo sistemando, abbiamo avuto un po' di difficoltà nel fare le altre sette stalli gialli riservati ai residenti perché è sempre piovuto e ovviamente ci deve essere l'asfalto asciutto per segnare sulla strada. Comunque devo dire grazie a Marche Multiservizi che ha creduto da subito nella nostra proposta e grazie ai cittadini che hanno risposto in maniera positiva e ci auguriamo da qui ai prossimi mesi già di partire con gli altri step. Ecco, altre tre aree verranno coinvolte, ricordiamo qual è l'investimento complessivo del Comune? L'investimento complessivo è stimato attorno al 1.200.000 euro perché questi cassonetti che sono 24 ipotizzati per il centro hanno un costo di circa 50.000 euro l'uno, questo primo step ha già impegnato l'azienda per 300.000 euro però è una di quelle operazioni che vale la pena fare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.